Cosa sono gli audio notes? Si comprano in libreria. Ecco qui in libreria c'è per esempio Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Letto da chi? Ma da Paola Cortillesi. Perché prenderlo? Perché è un capolavoro, non l'ho fatto io, l'ho solo letto. Però in libreria si trova questo fantastico libro. Voi direte c'è scritto ben poco. Perché serve ad annotare le cose che ci piacciono dei libri, quelle cose che ci sembrano così belle che vorremmo sempre ricordarci e che poi non ci ricordiamo, non sappiamo dove scrivo. Avrei dovuto segnarmi quella frase e con questo si può fare, ma come ascoltiamo il libro, lo ascoltiamo grattando qui, non si vince, cioè si vince la mia, in questo caso me che leggo, cioè nel senso la mia voce che legge il libro, sono stata abbastanza confusa credo, in libreria, però ci sono un sacco di altri, naturalmente di altri audio notes e adesso stiamo registrando Persuasione. Arriverà.